Siamo un corpo di materia attraversato da energia chiamata anima. Siamo un'anima in un corpo o un corpo con un'anima? Un'anima in un corpo soprattutto. E scriviamo le pagine della nostra vita con il nostro vivere. Così come ci sono migliaia, migliardi di insetti che adesso davanti a questo video si muovono sotto la luce del sole ma sono invisibili all'occhio. Ecco, qual è il mistero che nasconde la realtà? Noi siamo la realtà che vediamo e la realtà che non vediamo. Così come tutti questi insetti piccolissimi che si possono vedere e riprendere solo direttamente sotto la luce del sole. A quale realtà guardare? A entrambe. Per poter scrivere le pagine della vita come esseri umani. Capaci soprattutto di amare, comprendere, sapere. consapevolmente ciò che è la vita e il nostro esistere. Nulla è certo, ma l'umanità sì, è un dato di fatto per ogni essere umano. Quello che più importa è vivere bene nel presente per non avere il peso nel momento in cui si muore di aver fatto solo volontariamente del male. E il premio più grande sarà quello di non avere paura ad affrontare la vita anche nel suo ultimo istante.